Buongiorno a tutti da Martina Tosi presenta Format del Team Artes. Siamo qui oggi al Trend Studio per presentarvi quest'opera del maestro... Della maestra, grazie Martina, Rosa Maria Redaelli, dal titolo Tramonto a Monte Vecchia. La maestra ha oltre 40 anni di esperienza, la ringraziamo sempre per la sua adesione al Team Artes. Per info su questa e altre opere della maestra Redaelli, la nostra mail che è info.artesgruppo-gmail.com